Sono ingenti i danni che a causa delle mareggiate, soprattutto nella notte tra sabato e domenica, hanno interessato quasi l'intero litorale abruzzese e in particolar modo il terramano. Nella parte nord della costa i comuni più colpiti sono Villa Rosa di Martinsicuro e soprattutto Alba Adriatica, dove diversi lidi sono stati devastati dalla mareggiata di Levante. I danni subiti dalle singole strutture balneari sono notevoli ed i danni sono notevoli anche per gli immobili e le infrastrutture pubbliche. Abbiamo ricevuto dalla Regione Abruzzo un primo stanziamento di 100.000 euro per quanto concerne la Bambinopoli. La riassicurazione ieri di l'erogazione di un altro contributo straordinario e il finanziamento di alcune opere immediate che dovrebbero consentire agli operatori di riaffrontare la stagione estiva in sicurezza. Nella lettera che abbiamo già inoltrato alla Regione Abruzzo, oltre il contributo straordinario, oltre interventi da prendere nell'immediatezza, abbiamo chiesto anche il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Riteniamo che sia fondamentale anche perché presumo che gli operatori economici avanzino richiesta di risarcimento di danni e chiaramente queste richieste non potranno essere disattese. A Bilarosa purtroppo non sono serviti i lavori intrapresi dalla Regione Abruzzo, visto che la mareggiata ha spazzato via buona parte del lungomare. La situazione purtroppo ormai è diventata catastrofica, gli operatori turistici sono sconfortati e quindi cercheremo di incentivare la Regione a fare degli interventi molto più consistenti. Ribadisco quello che è stato detto l'altra volta, ovvero quello di cominciare a mettere delle barriere parallele alla carreggiata, perché gli interventi così tampone purtroppo abbiamo visto che non stanno giovando alla corretta manutenzione del nostro tratto di lungomare. I danni da quello che ho visto ieri sono molto consistenti perché c'è stata una completa erosione e quindi danneggiamento della pista pedonale, quindi oltre a dover intervenire mettendo degli scogli a protezione della strada e quindi della carreggiata, si dovranno fare degli interventi di ripristino della carreggiata stessa.